Domanda, è possibile portare 46.000 persone a palazzo per vedere due partite di pallacanestro in due posti diversi ma a distanza di 8 ore e questi due posti separati da 100 km di distanza risposta, è possibile, nello stato del Kentucky proviamo a raccontarvelo oggi cominciando da Louisville La partita è a dir poco pornografica, Clemson è avanti 23 a 19 alla fine del primo tempo bene ma non benissimo Bisogna solo rimetterla in campo Palla persa di Louisville, Clemson, stoppata subita e Louisville la vince, ma che finale ragazzi La prima è andata, non è stata una grande partita adesso per noi 100 km di viaggio, ci vediamo alla Rapparina Ci saranno i 24.000 della Rapparina che stiamo per mostrare alle raga che stacchi con un leggero vantaggio Una grande partenza per la scuola di coach Calipari, è già pronto che aspetta la squadra. Molto concentrato il coach. Wankert la portano a casa. Il risultato finale è 86 a 69. Alea Raga! Una grande esperienza. Be Blue Nation. Da Lexington è tutto!